Durante la Prima Guerra Mondiale avevano combattuto per l'esercito austro-ungarico. Quando il conflitto terminò, tornarono nei loro paesi pensando che l'incubo fosse finito e invece ad attenderli c'era la classica doccia gelata. Diversi soldati trentini furono infatti dichiarati prigionieri di guerra dall'esercito italiano e trasferiti e internati a Isernia. Ad accendere riflettori, su questa storia ha provveduto Luciana Palla, studiosa del territorio ladino-dolomitico. Il frutto delle sue ricerche è stato raccolto in un libro. Facendo una ricerca nelle valli del Trentino ho scoperto che 498 ex soldati austro-ungarici della valle del Primiero erano stati internati a Isernia, finita la guerra, ai primi di novembre, a metà novembre del 18, per due o tre mesi. Sono stati due o tre mesi di prigionia molto dura, proprio quando questi soldati pensavano che la guerra fosse finita e le autorità politiche e religiose trentine, anche militari, si sono poi messe in moto per, innanzitutto per sapere dove questi uomini erano finiti, perché non si sapeva niente, e poi per liberarli tramite suppliche, lettere al Presidente del Consiglio, alle varie autorità italiane, e così dopo due mesi circa sono stati liberati. Però questo fatto è stato ricordato dalla popolazione come il fatto di Isernia e come la cosa quasi più brutta della guerra, proprio perché in quattro anni ne erano passate tante e ormai tutti pensavano che con la pace tutto fosse finito. Il volume è stato presentato a Isernia a conclusione della mostra La Grande Guerra e il Piccolo Molise, organizzata dall'Archivio di Stato, e proprio i documenti recuperati nel capoluogo di provincia molisano si sono rivelati decisivi per la stesura del libro. Il libro è il frutto di una ricerca attenta che getta luce su alcuni fatti di Isernia accaduti nell'immediato dopoguerra. La ricerca è stata condotta su alcuni documenti che si conservano nell'Archivio storico comunale e che sono esposti anche nella mostra. Si tratta della storia di soldati trentini di lingua italiana che avevano combattuto per l'impero astro-ungarico e che al rientro nelle loro case a fine guerra vennero richiamati dal Comando Supremo perché si consegnassero immediatamente e senza alcuna spiegazione furono inviati a Isernia dove subirono una prigionia dai toni davvero drammatici.